Con la magia della sua poesia, intrisa di immagini marine, William Shakespeare riusciva a trasportare gli spettatori dei suoi drammi dal povero teatro in cui recitava in alto mare, in lunghe navigazioni tra tempeste e naufragi. Con questa iniziativa culturale, articolata in quattro eventi, noi lo seguiremo in questo suo straordinario viaggio poetico, ascoltando dei brani tratti da alcune sue opere, recitati da un gruppo di attori professionisti e commentati da Luigi Gianni Trapani, un appassionato cultore della drammaturgia shakespeariana. Vi aspettiamo!